Lama, l'azienda alla mobilità aquilana, ha attivato un servizio di messaggistica istantanea su WhatsApp per ricevere dagli utenti segnalazioni e suggerimenti ed un canale Telegram per ricevere informazioni e aggiornamenti in tempo reale sul servizio. Per attivare il servizio WhatsApp basta scaricare l'applicazione e salvare il numero 348 8619 657 sulla rubrica del proprio cellulare. Per attivare il canale Telegram, invece, dopo aver scaricato l'applicazione basterà cercare il canale Ama l'Aquila.